la musica e l'anima la musica meravigliosa veramente sono tutti molto emozionati di stare qua io penso che di qua non si muove nessuno al ritmo della taranta e con tanti amici come questi che vediamo qui è bellissimo qui è una delle più belle nottate di tutta la Puglia! Viva la Puglia allora! Viva la Puglia! 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 Allora, come ti chiami? Federica, Federica, siamo due Federica! Federica, da dove vieni? Eboli, provincia di Salerno! Siamo tutti di Eboli, vi salutiamo! Allora, forza Eboli! Forza Eboli! Viva la Puglia! Allora, number one, I am from United States! Di dove sei? Ma in Italia, Italia! Bravo Italia! Di dove sei d'Italia? Che posto d'Italia? Bruzzo, Pescara! E tu? Allora, mando un bacio a tutte le persone di Pescara! Vi mando un messaggio di pace a tutti questi giovani che sono qua! Vivete la pace! Custodite la bellezza del mondo, del teatro, la bellezza di ogni cosa! Vi ringrazio, è molto simpatico! Grazie! Viva la Puglia! Grazie ragazzi! È passato! Allora, come ti chiami? Renato! Da dove viene? Da Diso! Se vede ti stai divertendo tantissimo! Sì! Allora mando una mensaggia di pace a tutti i ragazzi che sono qua in questa festa. Non ho capito. Una mensaggia di pace a tutti i ragazzi che sono in questa festa. Mi divertitevi senza esagerare. Bravo. E se beve non deve guidare? Sì, soprattutto quello. Bravo. Allora, da dove vieni? Da Modena. E tu da dove vieni? Da Lecce. Come ti chiami? Giulia. Come ti chiami? Camilla. Ci sta divertendo? Sì, un sacco. Spettacolare. Allora mando un bacio a tutti questi giovani che sono qua dentro. Devo? Mandiamo un bacio a tutti i ragazzi. Allora. Da dove vieni? Da dove vieni? Da solito. E come ti chiami? Vincenzo. Allora, questa festa com'è? Benissimo. Ci divertiamo. Bravo. Allora mando un messaggio alle ragazze che bevono, che non devono guidare. Sì, un sacco di gente da queste parti. Sì, un sacco di gente da queste parti. Sì, un sacco di gente da queste parti del mondo, vero? E qui si balla. Non si finisce mai di ballare. Insieme ai nostri amici. Vai, si balla! Grazie mille. Ciao ragazze, da dove venite? Da Torino. Allora, forse a Torino. Come ti chiami? Giulia. Marco. Anna Lisa. Allora, cosa dite di questa festa? State divertente. È bellissimo, meraviglioso, meraviglioso. Allora, forse a Puglia. Forse a Puglia. Forse a Puglia. Forse a Salento. Ciao. Vai, anche lei, anche lei, anche lei. Allora, come ti chiami? Giuseppina. Che bella Giuseppina, sembra una bambolina. Allora, Giuseppina, che pensa di questa festa? Credo che sia bellissima, importantissima, perché fa parte delle nostre tradizioni. Infatti, la tradizione, non possiamo mai dimenticare le nostre radice. No, io non sono salentina, sono siciliana, però un po' fa parte della cultura del sud. Però penso che questa pizca, la tarantella, penso che è cultura di un po' di tutta l'Italia, secondo me. Del sud d'Italia. Del sud d'Italia. Ti ringrazio, Giuseppina. Forse, Giuseppina. Vai, Giuseppina. Per me, Giuseppina. S mediagruderone. Per me, Giuseppina. Forse, Spiegel. Buonasera. A dove venite? Avellino Come ti chiami? La Pio Come ti chiami? Allora Mario, questa festa com'è? Bellissima, bellissima festa Bellissima Buonasera Grazie Allora voi Che bella questa faccia, che cosa rappresenta? La Sardegna Allora Sardegna Quindi allora dalla Sardegna alla Puglia con tanto amore Certo, da Sassari Allora forza Sassari Certo, forza Sassari Facciamo vedere questa bandiera La bandiera da Sassari Un saluto a Grassano Basilicata Ciao mamma E viva la Sardegna Eia Eia Ciao mamma Ciao mamma Guarda come mi diverto Ciao 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 Porta Foccio Forza Abruzzo Gamba Basta 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 Puglia Ciao mamma, guarda, cosa mi diverto? Come ti chiami? Andrea, siamo in diretta da Santa Maria di Leuca Oh che bello, allora questa festa qua com'è, ti stai divertendo? Assolutamente sì Ciao Ciao Che dice che il mio amico Luca, Luca è molto soddisfatto E' il primo anno Allora Luca, cosa mi racconti di Melpignano della notte della Taranta 2K17? Una festa unica, una festa unica Ok, ok, allora va a chiamare la tua amica, va a chiamare la tua amica La tua amica Allora, questa è Nelly, è la nostra compaesana E ci racconta un po' questa sera come la sente, come va, come va Nelly? Tutto benissimo, ci stiamo divertendo tantissimo Bellissima serata Però fa troppo caldo e manca l'acqua, manca l'acqua Questa è la birra, purtroppo è questo posto Non c'è acqua Per me la birra è come la donna, è come tutto E non lo so Come mai non c'è acqua, non c'è acqua da vendere? Non lo so, non lo so, non c'è Va bene, dai Ora devi fare così Da Melpignano è tutto A voi Striscia La Franca Alla capitale della Valle d'Indria La Franca La città dei trulli Allora capitale Francesco Della Valle d'Indria Allora ma dove è stato questi ragazzi che sono qua stasera? Molto bello, li vedo tutti molto tranquilli stasera Io penso che di qua non si muove nessuno Al ritmo dell'Atalanta e con tanti amici come questi che vediamo qui Allora ragazzi da dove venite? Oliveto Citra in provincia Come ti chiami? Aldo Tu come ti chiami? Giussi Giulia Alessandro Pierangelo Giada Da Salerno Che cosa c'è? Ti piace questa festa? Che cosa c'è da dire di questa festa? È una festa meravigliosa Sì Bellissima Allora quando arriverete a scuola avrete cose da dire alla professoressa, da raccontare, vero? È bellissima Allora mandiamo un bacio a questa Puglia Baccio Puglia Un bacio alla Puglia Un bacio alla Puglia Un bacio a Puglia Un bacio a Puglia Un bacio a Puglia Un bacio a Puglia Un bacio gu